partiamo ora con le dosi per il nostro pre dessert avremo bisogno di pomodorini ciliegini acqua zucchero agar agar concentrato di pomodoro una bufala da 250 grammi del basilico e basta nulla più allora è un pre-dessert molto particolare pre-dessert tutto molecolare dove andremo a realizzare degli spaghetti di pomodoro non al pomodoro ma degli spaghetti proprio fatti col pomodoro con un'aria di mozzarella di bufala e una sferificazione di basilico allora in questo pre-dessert tutto molecolare andremo a vedere tre tecniche di base della cucina molecolare allora la gelificazione in questo caso attraverso l'agar agar l'aria e la sferificazione la sferificazione in questo caso noi andremo a farla sempre con l'agar agar l'altro tipo di sferificazione è quella dove si va a usare due reagenti il cloruro di calcio e l'alginato di sodio e si può fare in due maniere la sferificazione normale e quella inversa l'unica differenza sta nel mettere fare o il bagno di alginato e il cloruro all'interno del nostro prodotto o quella inversa andare a mettere l'alginato all'interno del prodotto e fare un bagno di calcio allora nella nostra ricetta andremo a fare gli spaghetti di pomodoro cosa faremo semplicemente andremo a creare questa salsa di pomodoro fresco frullando il pomodoro con lo zucchero l'acqua e il concentrato andremo a farla bollire aggiungeremo l'agar agar e andremo a farla tirare attraverso l'utilizzo della siringa e di questa di questa cannuccia all'interno di un bagno di ghiaccio dove poi spingendo fuori andrà a creare questo spaghetto l'aria invece anche qua ci sono due elementi per poterla fare uno è la lecitina di soia l'altro è il sucro cosa sono sono due emulsionanti fondamentalmente quindi permettono di andare a legare i grassi i grassi con l'acqua in questo caso il grasso della mozzarella con l'acqua e per poi riuscire attraverso la pompetta dell'acquario o se non la si ha si può anche usare un frullatore a immersione andando a frullare solo la parte in cima andremo a creare questa schiuma stabile dal sapore di mozzarella l'ultima la sirificazione fatta con l'agar agar cos'è molto semplicemente andremo anche qua a fare il nostro basilico andremo a frullarlo creare un liquido liquido poi texturizzato con l'agar agar e poi fatto gocciolare all'interno di olio freddo si creeranno queste goccioline istantaneamente che poi andando a depositarci a depositarsi sul fondo resterà come delle piccole perle delle piccole perle verdi bene ora che abbiamo visto gli ingredienti e le tecniche che andremo utilizzare ci spostiamo in cucina andiamo a realizzare il nostro piatto iniziamo a preparare tutti gli ingredienti così poi ci spostiamo sul fuoco la prima cosa l'aria di mozzarella l'aria di mozzarella prendiamo il nostro blender la nostra bufala campana con la sua acqua e la mettiamo all'interno poi aggiungiamo un paio di cucchiai di zucchero ok e andiamo a frullarla molto bene ora che ha frullato andiamo ad aggiungerci il sucro emul lo pesiamo e gli diamo ancora una frullata bene shinoa fine ora e lo mettiamo direttamente in un pentolino la seconda preparazione è quella del caviale di basilico allora abbiamo preso il blender foglie di basilico acqua anche qua mettiamo un cucchiaino di zucchero ok e andiamo a frullare bene aggiungiamo le ultime foglie di basilico ok e anche qua andiamo come prima a filtrare attraverso il colino e ora l'ultima preparazione il lo spaghetto di pomodoro abbiamo i nostri pomodorini ciliegini dell'acqua aggiungiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro per il colore e per il sapore un pochettino di zucchero qua però non c'è una grammatura specifica perché ogni pomodoro è a sé quindi può essere più acido più dolce dovrete metterlo a vostra sensazione palatiale quindi andiamo a frullare e ultimo step di nuovo filtriamo con il colino allora sferificazione di basilico abbiamo il nostro liquido lo mettiamo sul fuoco prima che lo lasciamo intiepidino secondo e aggiungiamo l'agar agar 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 è un gelificante di origine naturale deriva da più varietà di alghe rosse mettendo dentro frustiamo bene per farlo sciogliere e lo portiamo a bollore appena bolle spegniamo il fuoco poi intanto che bolle abbiamo già preparato in abbattitore abbiamo messo dell'olio di semi a raffreddare deve essere proprio bello bello freddo in quanto noi andremo a colare dentro questo liquido caldo e per avvenire la reazione deve essere proprio il più freddo possibile quindi prendiamo il nostro olio qui di fianco sta per bollire esatto a bollire lo spegniamo lo lasciamo giusto intiepidire un attimo e appena comincerà a tirare un pochettino cominciamo a colarlo ora che ha tirato un pochettino sta cominciando a tirare un pochettino piano piano lo facciamo colare all'interno dell'olio vedete come si formano le piccole sfere lavoro di pazienza poi cosa più importante quando si fa questo tipo di sferificazione è che quando le palline non si formeranno all'inizio proprio appena toccano l'olio vuol dire che l'olio è troppo caldo quindi bisogna cambiarlo e metterne di più freddo lasciamo bene riposare a me piace farlo così perché almeno tutte le palline non sono uguali poi se lo si voglia un po' più preciso si può usare un biberone e farle colare tutte uguali a me piace farle così così sono un po' tutte diverse poi per conservarle queste qua possiamo tenerle in mise en place per il servizio per qualsiasi cosa tenendole in olio basta tenerle in frigo in olio e quando si ha bisogno si prende un bel cucchiaio bucato le raccogliamo prendiamo un pochettino di carta sotto e le asciughiamo e le mettiamo nel nostro piatto alla fine così saranno così iniziamo ora l'aria di mozzarella molto velocemente dobbiamo solo farla bollire in modo che il sucro faccia legare per bene i grassi e la parte di acqua quindi tenendola frustata bene facciamo bollire e appena inizia a bollire la togliamo sta per bollire e se potete già vedere qua comincia già a formarsi questa schiuma che poi sarà la nostra aria e appena bolle la spegniamo voilà ci siamo perfetta e la mettiamo qua da parte fino a che non impiattiamo per il nostro spaghetto di pomodoro abbiamo il nostro preparato di prima facciamo come per le sfere di basilico andiamo ad aggiungere l'agar agar lo portiamo a bollore e poi prepariamo gli spaghetti allora adesso che il nostro pomodoro ha bollito siringa prendetene poco alla volta mi raccomando e fatelo in fretta finché è bello caldo siringa dentro nel tubo il tubo lo immergiamo nel ghiaccio e andiamo a creare il nostro spaghetto arriviamo al limite stacchiamo facciamo subito l'altro ok togliamo anche questo facciamo raffreddare bene adesso abbiamo tirato indietro la nostra siringa il nostro stantuffo da indietro abbiamo infilato e adesso con un po' di forza lo schiacciamo fuori e ok continuiamo a farli così andiamo ora a impiattarlo mettendo al centro il nostro spaghetto poi il nostro caviale di basilico poi l'aria di mozzarella e infine lo decoriamo con un paio di cimette di basilico e due fiorellini ora l'aria di farla Grazie a tutti.